Parliamo di moto armonico. Un moto armonico è definito dal dire che l'accelerazione dell'oggetto è proporzionale al suo spostamento da un certo punto di equilibrio, in particolare però l'accelerazione è sempre opposta allo spostamento. Guardiamo la struttura di questa equazione. Se x è lo spostamento dell'oggetto, omega quadro essendo quadrato è un numero positivo, col meno davanti, questo termine davanti al vettore x è un numero negativo, quindi l'accelerazione proporzionale allo spostamento è sempre opposta allo spostamento. Vediamo un attimo cosa intendo. Immaginiamo un sistema di riferimento, un oggetto nel centro, con questa linea indico lo zero del mio sistema di riferimento e l'oggetto si sta spostando verso destra. Spostandosi di una quantità x, l'oggetto subisce un'accelerazione opposta. Ovviamente l'accelerazione opposta al vettore velocità mi fa diminuire il valore della velocità. Mettiamoci anche questi. Se io mi sposto un po' di più, una x maggiore, ecco che la velocità è diminuita ancora, qui in particolare l'oggetto si è fermato, ma ho l'accelerazione che è più grande di quella di prima perché mi sono spostato di più dal mio punto di riferimento. L'oggetto a questo punto ritornerà indietro. Tornando indietro l'accelerazione a sinistra, l'oggetto va a sinistra, la velocità aumenta sempre più. L'accelerazione man mano che l'oggetto si ritorna verso il punto di equilibrio diminuisce. Arrivato di nuovo nel punto di equilibrio l'oggetto avrà una certa velocità, uguale a quella di partenza, lo spostamento sarà 0, l'accelerazione 0. Andando dalla parte opposta, lo spostamento adesso è un vettore verso sinistra, l'accelerazione sarà opposta verso destra e si ripete il discorso di prima. L'oggetto quindi oscillerà avanti e indietro intorno alla posizione di equilibrio. L'equazione oraria del moto è questa. Se non avete ancora studiato le funzioni trigonometriche seno e coseno, ignoratela pure. Cosa che invece ci interessa di più di questo movimento è avere ben chiaro qual è il periodo del moto, perché il moto armonico è un moto periodico, cioè si ripete uguale dopo un certo periodo di tempo. Cioè dopo un certo periodo di tempo si ritrova nello stesso punto con la stessa velocità e la stessa accelerazione. Il periodo del moto si calcola sempre 2π diviso questo termine ω che caratterizza il movimento. Un moto armonico lo posso costruire per esempio con una molla. Immaginiamo un piano orizzontale liscio, cioè senza attrito, e una molla. L'oggetto qui in questo momento è nella sua posizione di equilibrio. Io prendo l'oggetto e lo tiro verso destra, poi lo lascio. Ovviamente se l'ho spostato verso destra, la forza elastica che lui subisce sarà sinistra e quindi l'accelerazione sinistra. La forza elastica è meno Kx. Ora, la seconda legge della dinamica mi dice che la forza sull'oggetto è massa per accelerazione, quindi la massa dell'oggetto per l'accelerazione dell'oggetto sarà meno Kx. L'accelerazione sarà quindi meno K su m per x. E come vedete l'accelerazione è effettivamente meno un numero definito positivo, corrisponde a quello omega quadro, per x. Quindi confrontando questa equazione con quella del moto armonico avremo come che il quadro è K su m. Per cui il periodo di questo moto, cioè di questa molla, l'oggetto attaccato alla molla che oscillerà avanti e indietro, il periodo sarà 2π diviso ω, cioè per la radice di m su K. Vediamo adesso come costruirci l'equazione di un moto armonico ottenuto con un oggetto appeso a una molla. Voi sapete che se attaccate un oggetto a una molla e lo lasciate libero, questo oscillerà su e giù. Allora, vediamo la situazione. Cominciamo a vedere questo caso A. L'oggetto è tenuto da me, la molla è lì e completamente scarica, quindi il peso dell'oggetto in questo primo disegno A lo sto sorreggendo tutto io. Mi tolgo io il peso dell'oggetto, spinge l'oggetto in giù, la molla si allunga, arriviamo in questa condizione. Immaginate l'oggetto adesso fermo, ok? Lo tengo fermo, l'ho tenuto fermo, adesso nella posizione di equilibrio. Sicuramente rispetto a prima è sceso di una quantità ΔL. In questa condizione di equilibrio la forza di gravità sull'oggetto verso il basso sarà compensata dalla forza elastica verso l'alto. Ora il terzo punto. Prendo questo oggetto e lo tiro giù per poi lasciarlo libero. Allora, se io prendo l'oggetto e lo tiro giù e poi lo lascio, vedete che non lo sto tenendo, avendolo tirato giù la forza di gravità non è cambiata, ma è aumentata la forza elastica verso l'alto, quindi la forza totale qui sarà in alto e quindi l'accelerazione sarà in alto. Ma rispetto alla posizione di equilibrio che aveva prima sono sceso di una quantità ΔX. Quindi adesso in questo disegno C prendete come riferimento questo livello e rispetto a quel livello misuriamo lo spostamento X. Vediamo l'equazione di questo sistema. La forza totale verso il basso sarà forza di gravità meno la forza elastica e sarà massa per accelerazione. La forza di gravità è M per G. La forza elastica è K per ΔL più X perché rispetto alla condizione a riposo della molla questo è stato tutto l'allungamento, uguale MA. Sviluppo i calcoli. Adesso guardiamo questi due termini. Questo K ΔL è la forza che faceva la molla in questo caso, ma abbiamo già detto che queste due forze sono uguali. Quindi questi due termini si cancellano. Cosa rimane? Che meno Kx è uguale a M per A. Quindi l'accelerazione che sta subendo il sistema è meno K su M per X, che è esattamente quello che abbiamo visto prima. Per cui questa equazione la confronto con l'equazione del moto armonico vedo che sono strutturalmente uguali. Basta dire che ω² è K su M. Quindi il periodo di oscillazione di quell'oggetto appeso alla molla è 2π per per la radice di M su K, cioè dell'inverso di ω.